Sono della provincia dei Frati del Nord Italia, la provincia di Sant'Antonio. Ho partecipato a questo convegno perché io sto finendo il dottorato di ricerca in diritto canonico e il tema della mia tese è proprio la consacrazione religiosa. Quindi il convegno ha affrontato tanti aspetti che io già nella tesi ho cercato di presentare. Ormai siamo arrivati a quella conclusione del nostro percorso. È davvero stato un tempo di grande grazia perché sono emerse questioni ancora un po' irrisolte da parte della teologia e soprattutto poi della traduzione canonica. Questa mattina abbiamo fatto un po' la sintesi dei vari lavori di gruppo. Certamente sono emerse tanti nodi che hanno bisogno di ulteriore analisi e approfondimenti. In secondo luogo il fatto che sia stato un convegno internazionale ha permesso davvero l'incontro di tante realtà, forme di vita diverse, appartenenti anche a contesti culturali molto diversi dove la vita religiosa e la vita consacrata si incarna. Quindi davvero un bilancio molto positivo per questa esperienza. Grazie. 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 Grazie.